Sospesa all'attività di un albergo della riviera Teramana, più precisamente nel comune di Alba Adriatica, all'interno del quale, dopo un controllo approfondito dei carabinieri della stazione locale e del nucleo ispettorato del lavoro di Teramo, sono emerse varie irregolarità. Il controllo dei militari ha accertato che, oltre alle carenze igienico-strutturali dell'edificio, quattro lavoratori sul totale di sei non erano regolarmente assunti, in particolare uno dei quattro, cittadino extracomunitario, non poteva in ogni caso essere assunto, in quanto si trovava in Italia, non per lavoro subordinato. Le difformità riguardano anche la sicurezza, in quanto non erano stati forniti ai lavoratori dispositivi di protezione individuale, oltre ad essere stata elusa la sorveglianza sanitaria e la partecipazione ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività è stata dunque sospesa e sono state elevate multe per un valore complessivo di circa 22.000 euro. Non solo perché la titolare della struttura, a seguito delle violazioni, è stata segnalata all'autorità giudiziaria e a quelle amministrativa e sanitaria.